Non penso che un eventuale privilegio sia in grado di spuntare una diminuzione di tasso analoga di quella che avremmo utilizzando prestiti anche senior più convenienti come quelli dei vari strumenti dell'Unione Europea, siano i loans del Recovery Resilience Facility, sia Shure, sia il MES che hanno tutte queste caratteristiche e anche questo tasso molto basso. Sì, sono tutti signori. Scusi, questo va fatto rimarcare, scusi, perché è una cosa molto molto importante. Quindi adesso ci sta dicendo il Ministro che i loans del Recovery Fund, quindi la parte prestiti, è privilegiata. È una normale caratteristica. No, dato che non è mai scritto da nessuna parte, però attenzione, quindi significa che sono uguali al MES? Benissimo, no, no, basta saperlo. Allora, vi lascio a questo interessante dibattito, tuttavia sono cose abbastanza note.